Sì, è pronto. L'omicida agisce di notte e quando piove. E poi i vestiti rossi. Le vittime indossavano qualcosa di rosso. Non abbiamo un solo testimone, né uno straccio di prova. Come si fa senza niente? Posso fidarmi? L'omicida colpirà di nuovo stasera! Voglio l'assassino. Grazie per la visione! Grazie per la visione!